Un incendio è divampato attorno alle 22 di ieri, martedì 26 settembre, in via Lambro, zona di Vismara, ad alta densità residenziale. A prendere fuoco cassonetti della raccolta differenziata di plastica e carta con l'incendio che è stato circoscritto dal pronto intervento dei vigili del fuoco chiamati dai residenti. Sembra evidente l'origine dolosa e al momento i sospetti sembrano ricadere sull'ennesimo atto vandalico messo in atto da giovanissimi teppisti che gravitano nel quartiere. Un atto piromane che di fatto si accoda a quello di pochi giorni prima quando ad andare in fiamme era stato un divano lasciato vicino ad un'isola ecologica nei pressi del supermercato Famila. I residenti reclamano maggiore vigilanza in una zona dove lo scorso anno si sono ripetuti continui atti di vandalismo ai danni del quartiere.